allevamento di lumache hai mai pensato di avviare una nuova start up nel campo dell'elicicoltura sei un terreno incolto o già coltivato e vuoi utilizzarlo per creare il tuo nuovo lavoro lumaca madonita e il tuo partner ideale ti seguiremo a passo di lumaca fino a creare il tuo allevamento di chiocciole professionale secondo l'innovativo metodo madonita cosa dovrai fare ti insegneremo come lavorare il terreno per renderlo perfetto per la semina e realizzare l'impianto di irrigazione che darà vita al tuo campo e alle tue chiocciole dovrai poi seminare gli ortaggi selezionati che saranno l'alimentazione principale delle lumache insieme al nostro speciale mangime nutri elix quando gli ortaggi saranno pronti dovrai inserire le chiocciole da riproduzione che abbiamo selezionato per te e che accoppiandosi daranno vita la tua futura produzione che sarà pronta per la vendita in soli nove mesi controllale confezionale e preparale per la vendita a chi venderle le compreremo tutte noi avrai a disposizione un ufficio dedicato alla progettazione alla consulenza e alla formazione tecnica con il quale sarei sempre a diretto contatto interfacciandoti direttamente con i soci fondatori di lumaca madonita contattaci e ti daremo gratuitamente tutte le informazioni necessarie l'allevamento di lumache in collaborazione con l'umaca madonita può essere il tuo punto di svolta l'umaca madonita l'eccellenza non ha fretta